Una giornata intensa e piena di sorprese ma soprattutto una didattica all'avanguardia con la scuola senza zaino e le aule digitali. L'istituto comprensivo Piero della Francesca di Arezzo si è presentato a studenti e famiglie nell'open day che si è svolto sabato scorso tra sorrisi e gadget natalizi. I ragazzi sono stati accolti dagli alunni che già frequentano l'istituto come apprendiste guide tra le curiosità un corner per la vendita dei prodotti che sono stati coltivati nell'orto didattico. L'istituto è una scuola che si apre al territorio e interagisce con esso. In questo istituto è già una realtà l'uso delle tecnologie digitali dai tablet ai monitor touch, dalle aule tematiche ai laboratori, gli arredi funzionali come i banchi modulari Chromebook e da qualche anno è una realtà la scuola senza zaino. Un altro aspetto che contraddistingue la didattica di questo istituto è l'attenzione ai temi della creatività, della musica, del canto e delle arti visive. Venite che vi aspettiamo perché qui vi vedrete tutte delle bellissime esperienze dove potrete anche fare amicizie e potrete divertirvi con dei progetti ma anche con professoresse e amici. Venite che vi aspettiamo!